sono adesso le 8 e 28 di sabato 3 dicembre 2016 è il giorno di digital business strategy giusto bere qualcosa che ore sono adesso? un quarto tra un quarto d'ora aprono la sala giusto qua a prendere note qua c'è il grande capo supremo il faraone di tutti i faraoni eccolo la c'è il suo conforto morale a me dello vicino mi dà come un senso di tranquillità di pace e anche di ottimismo perché una cosa che mi piace sia di marcello che non avevo capito perché non è che lui te la sta lì a cantare per venderti qualcosa lui ci crede proprio secondo me è un bulldozer che sorprenderà parecchi il bulldozer positivo di quelli che non è che buttano giù le cose lui proprio le crea mentre va avanti si formano robocop ciao Buongiorno v'è arrivato Grazie 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 La caratteristica del posto tenuto e delle capacità di potere è dare un pubblico al grande Robin Good Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.